L'Avventura di Bray Manor Racconto di Simone Casi Era una normalissima mattinata del 1890 quando ad un tratto, mentre stavamo facendo colazione, Sherlock Holmes mi allungò il giornale, che era stato intento a leggere con molta attenzione fino a quel momento. Di riflesso, senza neanche pensarci troppo, l'ho presi e lo scorsi velocemente mentre sorseggiavo un bicchiere di latte. Tra i vari annunci e le notizie di poco conto, trovai tuttavia un articolo che, capì, era quello che doveva aver stuzzicato la mente di Holmes. Lessie Orrore ad Addington Il matematico Ezra Bray trovato assassinato in casa sua Nella giornata di ieri, il rinomato studioso dottor Ezra Bray i cui contributi al ramo delle scienze matematiche sono stati fondamentali per il progresso del nostro secolo, è stato rinvenuto privo di vita a Bray Manor, la sua magione di campagna ai piedi del monte Lammerlow, a 5 miglia da Addington, nella Scozia meridionale. Le circostanze della morte del dottor Bray sono delle più drammatiche. È stato ritrovato nel suo letto, il petto completamente squarciato da un coltello. Anche il suo servitore straniero, Ted Van Pisturz, nativo delle Indie orientali olandesi, è stato rinvenuto privo di sensi, vittima di un'aggressione. Nulla hanno potuto gli sforzi dei medici per salvarlo, ed è stato, poco dopo, dichiarato anche egli deceduto. Alcuni oggetti di valore sarebbero stati rubati dalla casa. Parrebbe quindi che i due, padrone e servo, siano stati le sfortunate vittime di una rapina finita in tragedia. L'orrendo crimine è stato scoperto dai due nipoti del matematico, il signor e la signorina Ogg, rientrati da un breve soggiorno ad Edimburgo. Essi hanno trovato i corpi del loro zio e del servitore, l'uno in camera da letto, e l'altro nel soggiorno, mentre una cameriera, unica superstite di questa disumana barbarie, era stata rinchiusa in uno sgabuzzino ed era svenuta. La polizia locale sta ancora indagando, e indiscrezioni della stampa scozzese parlano di un ispettore in arrivo direttamente da Edimburgo. Seguiranno presto altri aggiornamenti su questa tragica e disdicevole vicenda. «Santo cielo, Holmes, ma è orribile!» mormorai sconvolto. «Indubbiamente», rispose il mio amico, «ma trovo che non ci sia nulla di meglio di una storia orribile per ritrovarsi di mattina a mente chiara». «Faticherò sempre a comprendere il suo modo di ragionare, amico mio», risposi, nauseato da quel suo commento. «Lo so, Watson, lo so», rispose lui sorridendo. «Ma non si preoccupi, sono uno dei pochi la cui mente segue questa determinata linea di pensiero. Mi dica, aveva mai sentito parlare del dottor Bray?» «Sì, l'ho sentito nominare», feci. «Ma non so di preciso quali fossero i suoi meriti». «Eh, già, amico mio, la matematica non è mai stata il suo forte», mi canzono Holmes. «Ma ammetto che perfino per me, che pure posseguo i rudimenti necessari di questa scienza meravigliosa, può rivelarsi una materia a tratti decisamente astrusa e noiosa. Trovo che il teorema algebrico di Bray sia una delle scoperte matematiche più interessanti e formidabili di questo secolo, in grado di rivaleggiare e perfino con un certo trattato sul moto degli asteroidi che stavo leggendo giusto l'altro giorno. Se lo dice lei. Comunque, non è per parlare di matematica che le ho fatto notare quest'increscioso fatto di cronaca. So che per un esperto dell'arte della deduzione come il sottoscritto sarebbe un disonore ammetterlo, ma il mio istinto mi dice che avremo presto ulteriori nuove su questa vicenda, e non certo da malinformati giornali londinesi, dice che... non lo dico, ne sono sicuro. Come al solito, Sherlock Holmes non si sbagliava. Subito dopo l'ora di pranzo, arrivò un telegramma urgente che il mio amico guardò appena, allungandomelo perché lo potessi leggere. Al signor Sherlock Holmes. Stop. Richiedo subito suoi servigi per delitto Huddington. Mio fratello accusato ingiustamente. Stop. Sua necessità urgente. Offro ottima paga vitto alloggio. Stop. Venga subito Huddington. Bry Manor. Stop. Dido Hogg. Nipote, dottor Bry. Stop. Pare che stiamo per partire per la Scozia, caro Watson, annunciò Holmes. Non è contento di tornare nella sua terra natale? Sospirai sconsolato e preparai la mia valigia. Dopo che il mio amico ebbe mandato un telegramma di risposta in cui accettava l'incarico, prendemmo due biglietti di prima classe sull'espresso diretto per Edimburgo. Mentre viaggiavamo, Holmes fu più loquace del solito, mentre la campagna, sempre più smorta tutto attorno a noi, man mano che risalivamo verso nord, mi deprimeva assai. Su con la vita, dottore, mi punzecchiava lui. Visto che andiamo ad Huddington, dovrebbe cogliere l'occasione per fare due chiacchiere col signor Smiles. Sono sicuro che sarebbe ben convinto di conoscerla e di discutere con lei e perché no, autografare anche una copia del suo Chi s'aiuta, Dio l'aiuta. Non ho mai avuto il piacere di consultarlo, feci. Le garantisco che è una lettura molto interessante e persino utile, cosa strana per gli imbrattafogli odierni, esclamò Holmes. Ma in fatto di letteratura, lei dovrebbe saperne molto più di me, quindi non starò a tediarla con le mie considerazioni sull'autoconvincimento e sulla forza di volontà, nonostante trovi che siano dei motori imprescindibili per la mente umana. Lei che ne dice? Arrivammo nel capoluogo scozzese in serata e fummo fortunati. L'ultimo treno per Huddington stava proprio per partire. Così ci affrettammo a salirvi a bordo. L'Huddington Line era uno dei tratti ferroviari più vecchi del sistema di trasporto scozzese e Holmes non perse l'occasione di illustrarmi tutte le diatribe legate alla sua costruzione negli anni 40. Superammo la fermata intermedia di Longnidry ed eviamo verso sud e percorremmo in poco tempo le 4 miglia e 13 sedicesimi che ci separavano da Huddington. Al nostro arrivo la piccola stazione era deserta e la rada luce dei lampioni non illuminava nessuno eccetto un ometto basso e grasso appartato in un cantuccio che pareva stare aspettando qualcuno guardando però verso la sezione sbagliata del convoio appena giunto. Holmes stranamente furtivo gli si avvicinò senza farsi sentire. Lei aspetta noi presumo disse allora ad alta voce una volta scivolato accanto all'uomo lo metto trasalì e quasi spiccò un balzo all'indietro sembrava molto nervoso poi capendo che eravamo davvero coloro che stava aspettando si ricompose e lei deve essere il signor Sherlock Holmes accompagnato dal dottor Watson fece accarezzandosi la pelata ormai quasi del tutto calva mi scusi credevo che sareste arrivati prima vi ho aspettati per più di un'ora e stavo cominciando a temere che non sareste venuti capisco rispose il mio amico asciutto dottor John Watson mi presentai all'ometto poiché Holmes non aveva mai fatto riferimento a qualcuno che ci stesse aspettando lei è Ogden Moy notaio mi strinse la mano egli sono l'esecutore testamentario del dottor Brai brutta storia signori miei brutta storia ci conduca subito a Brai Manor fece Holmes è già passato molto tempo dal delitto e credo che la tempestività sarà cruciale nella risoluzione di questo caso il notaio già avanti quegli anni e un po' caracollante non di meno ci accompagnò ad una carrozza che aveva affittato per l'occasione e ci accompagnò verso la casa del professore assassinato presto uscimmo da Haddington e fummo immersi nel buio e mentre sfrecciavamo per la campagna scura ebbi come la sensazione che qualcuno potesse saltarmi addosso da un momento all'altro poi però dopo aver sorpassato un villaggio illuminato da alcuni lampioni il coraggio mi ritornò e non permisi più a quell'ambiente lugubre di mettermi in soggezione mentre cercavo di esorcizzare i miei terrori atavici Holmes conversava col nostro accompagnatore del più e del meno signor Moy faceva la convinzione che lei sia un botanico dilettante come come fa a saperlo fece l'altro non negando affatto la deduzione come al solito esatta del mio amico le toppe sulle ginocchia dei suoi calzoni sono leggermente tendenti al verde illustrò e siccome esso è un colore piuttosto peculiare per il vestiario direi che è uso a chinarsi sui tappeti erbosi e solamente i botanici e pochi altri ne sarebbero avvezzi e poi se non l'ho confusa con qualcun altro lei è l'autore di alberi arbusti e piante non comuni dell'Othian orientale dico bene? ah sì è vero ammise il notaio è un piccolo passatempo con cui impegno le mie giornate libere sa da queste parti non c'è molto altro da fare ed essendo di una certa età non mi restano molti altri svaghi tuttavia pensavo che il mio volumetto fosse passato del tutto inosservato se devo essere sincero oh no signor Moy lo rassicurò il mio amico le garantisco che basta saper cercare bene chi porta pazienza ottiene tutto ciò che vuole mi trovo assolutamente d'accordo con lei signor Holmes dichiarò prontamente il notaio ho apprezzato particolarmente la sua analisi sulla distribuzione irregolare del silibum marianum puntualizzò l'investigatore una pianta davvero straordinaria che purtroppo si confonde spesso col banale cardo comune sì signora è davvero sorprendente come riesca a crescere sugli ambienti assolatio del lammerlow considerato il clima di tipo continentale e a tratti persino alpino li lasciai ai loro discorsi sui vegetali verso cui non ero minimamente attratto e mi misi a fissare l'esterno scuro in lontananza comparve il profilo confuso di un basso monte il lammerlow e in pochi minuti giungemmo davanti a Brai Manor illuminata a giorno nonostante cominciasse ad essere piuttosto tardi era una villa piccola ma molto elegante e ben tenuta segno che il defunto Ezra Brai non se la passava male finanziariamente imboccammo il vialetto e fummo portati direttamente al portone d'ingresso scendemmo dalla carrozza e fummo accolti da vari agenti di polizia che chinarono leggermente il capo in segno di rispetto al famoso investigatore alcuni secondi dopo il portone si spalancò e un uomo in divisa d'ordinanza dall'area importante si diresse a passo spedito verso di noi allora è arrivato davvero signor Holmes gli sorrise decisamente sfacciato beh poteva anche risparmiarsi il viaggio poiché il colpevole di questo orrendo misfatto è già stato catturato con chi ho il piacere di parlare chiese cortesemente il mio amico ignorando la sua provocazione ispettore Sam Dubs del distretto di Edimburgo rispose l'altro tronfio e le ripeto che poteva risparmiarsi il disturbo poiché il criminale è ormai senza ombra di dubbio il nipote del defunto dove è sua sorella si limitò a chiedere Holmes insensibile alle maniere sgarbate dell'ispettore Dubs esitò per alcuni momenti e il modo sicuro e incurante del mio amico assieme all'aura di fama che lo avvolgeva parvero schiacciarlo e ridurlo al silenzio in una camera al piano di sopra sorvegliata rispose infine l'ispettore incerto capisce si tratta di una sospettata e nonostante la cattura del colpevole è ancora passibile di arresto come complice l'abbiamo presa in custodia subito dopo che l'ha disturbata con quel telegramma e mi dolgo per l'inutile strada che le è toccato di fare per arrivare fin qui sarò io ispettore dubs a stabilire se il viaggio che ho compiuto sia stato vano o meno fece holmes gelido adesso la prego mi faccia entrare desidero conoscere subito tutti i particolari del delitto sam dubs stavolta non trovò la forza di contraddirlo con uno schiocco di dita ordinò agli agenti di precederli e poi tutti assieme entrammo nel soggiorno il quale era una stanza che subito si raggiungeva dopo una breve anticamera vedemmo subito che era stato devastato era completamente a suo quadro tutti i mobili rovesciati e spaccati alcune teche che dovevano aver contenuto dei materiali preziosi infrante e vuote una grande collezione di armi che figurava dietro ad un coperchio di vetro una volta tenuto sotto chiave mostrava un visibilissimo spazio vuoto proprio al suo centro infine quasi verso una delle porte che conducevano negli ambienti della servitù era presente per terra un foglio di carta quello fece l'ispettore indicandolo è il punto in cui è stato ritrovato il servitore ci abbiamo collocato il foglio per riconoscerlo era stato colpito alla testa da un corpo contundente ed era disteso carponi deve essere morto sul colpo mi auguro che le scene del crimine non siano state eccessivamente contaminate fece il mio amico le posso assicurare che i miei uomini sono stati molto attenti sinalbero dubs ad edimburgo sappiamo fare il nostro lavoro in parte fui colpito da quel moto d'orgoglio scozzese e tuttavia non potei fare a meno di pensare che le attenzioni usate dall'ispettore non fossero tanto dettate dallo zelo quanto piuttosto dovute alla consapevolezza che presto si sarebbe trovato faccia a faccia col miglior consulente investigativo d'inghilterra holmes si avvicinò al foglio di carta lo sollevò e osservò con attenzione il pavimento nessuna traccia di sangue constatò infine signor holmes le ripeto che è lì che è stato trovato il servo fece dubs indispettito l'ho veduto coi miei occhi non ne dubito ispettore non ne dubito rimarcò holmes per poi tornare ad osservare il pavimento rimase chinato per circa un altro minuto potei vedere che tastava con le mani le pieghe del magnifico tappeto persiano che copriva quasi interamente la superficie camminabile della sala poi per un istante parve come raccogliere qualcosa dalle fibre del tappeto ma poi sbattei le palpebre e credetti che fosse stata solo una mia impressione allora holmes si rialzò e si guardò intorno con attenzione per poi tornare verso l'ingresso che prese ad esaminare minuziosamente non capì quella sua indagine visto che non presentava nulla di interessante un attaccapanni ingombro di cappotti un portaombrelli pieno e un portabastoni vuoto poi finito di osservare l'ingresso si volse verso il grande camino adesso spento con nostro grande stupore si chinò e ci entrò quasi interamente mettendosi a frugare fra i resti di cenere e carbone ma che fa? fece Dubs stupefatto cerca indizi suppongo gli risposi laconico e ormai avvezzo a quelle stravaganze mi avvicinai incuriosito per vedere se la sua caccia stesse divenendo fruttuosa e pur riluttante anche l'ispettore mi seguì proprio mentre mi sporgevo per avere una vista migliore Holmes si rialzò agitando in mano quello che a una seconda occhiata si rivelò essere un pezzettino di carta questo sì che è interessante fece esaminandolo di acqua irruppe in mezzo a noi l'ispettore Dubs afferrandoglielo mentre Sam Dubs lo teneva in mano ebbe il tempo di vederlo per bene era un bigliettino scritto a mano ormai impolverato di cenere e mezzo bruciato dalle fiamme tuttavia guardando bene si riusciva a distinguere ancora parte delle scritte che c'erano state sopra mettine molt e fanne poi chissà cosa vorrà dire mormorai assorto ah niente che possa interessarmi fece Dubs sbrigativo ficcandoselo in tasca solo il resto d'una cartaccia che non c'entra nulla con questo delitto questo è da vedere fece Holmes chinandosi nuovamente ora se permette questo cammino si sta rivelando molto interessante ecco per esempio e mentre parlava infilò il braccio in una piccola alcova laterale e quando riemerse la pelle annerita fin sopra il polso teneva stretto nel pugno uno stranissimo oggetto avvicinai il viso per vedere meglio e mi resi conto che si trattava di una piccola palla di metallo zincato decorato come una fiera testa di leone emblema araldico sia della scozia che dell'inghilterra sembrava proprio il pomello di un bastone disse infine Sherlock Holmes direi che ora sappiamo che fine ha fatto l'oggetto contundente che ha colpito il servitore malese è stato preso proprio da questo soggiorno dal portabastoni accanto all'entrata e delle piccole schegge che ho rinvenuto sul tappeto ne testimoniano l'impiego un portabastoni senza alcun bastone è sempre molto peculiare non trova ispettore dubs beh ormai è distrutto fece osservare l'ispettore non vedo come questa informazione possa tornarci utile lei forse non lo vede ma io sì fece sicuro il consulente investigativo Sam dubs fermo nelle sue posizioni si strinse nelle spalle i corpi sono già stati portati via chiese infine il mio amico mettendo via il pomello beh no ammise dubs dovrebbe arrivare una dirigenza speciale da edimburgo ma sfortunatamente vi sono stati dei ritardi dove sono insiste holmes nella ghiacciaia rispose l'ispettore desidererei vederli dichiarò allora il mio amico per poi rivolgersi a me vorrei che venisse anche lei dottore per avere il parere di uno specialista Sam dubs pur riluttante ci accompagnò nei quartieri della servitù mentre passavamo per la cucina sentimmo un pianto sommesso provenire da una delle stanze vicine e ci fermammo per ascoltare meglio è la cameriera fece l'ispettore da quando è rinvenuta è in preda a continue crisi isteriche non siamo riusciti a cavarle una parola di bocca e sono del parere che sia bella che è andata di testa ella potrebbe aver bisogno del suo aiuto dottore mi disse Holmes a noi poi ci affrettammo a raggiungere la ghiacciaia faceva freddo a sufficienza e il processo di decomposizione dei corpi era rallentato al punto giusto da poter permettere un esame accurato padrone e servo erano entrambi distesi su un tavolo portato lì per l'occasione l'uno accanto all'altro coperti da un improvvisato sudario da medico competente ordinai che venisse tolto e quando due agenti eseguirono non potei fare a meno di emettere un grido di sorpresa e di orrore mio dio i miei occhi si erano fissati subito su quello che doveva essere il cadavere di Ezra Bray perché il suo petto ancora non del tutto bianco per il Livor Mortis presentava un enorme squarcio che lo attraversava da parte a parte il largo e comodo pigiama che il dottore aveva indossato al momento dell'assassinio era intriso di sangue in prossimità dello squarcio e non ebbi quasi il coraggio di esaminarlo tant'era impressionante il suo viso tuttavia non era contorto in una smorfia terrorizzata come spesso succede in questi casi bensì era disteso quasi come se fosse morto pacificamente Holmes parve molto meno impressionato di me si chinò sul cadavere ed esaminò da vicino l'orrenda ferita tirando fuori anche la sua immancabile lente di ingrandimento per non dar mostra della mia vergognosa debolezza mi concentrai allora sull'altro cadavere quello del servitore era molto più giovane del suo padrone non doveva aver nemmeno trent'anni a giudicare dai tratti lisci e sbarbati aveva la pelle di colore scuro più dell'olivastro tipico degli indiani e questo lo qualificava come appartenente al tipo malese il livor mortis era riuscito appena a schiarirlo mi chinai sul suo capo per esaminare la ferita che doveva averlo ucciso subito sul retro del cranio nella zona dove i suoi capelli corti erano più radi scorsi il punto colpito tuttavia fui alquanto stupito non si trattava di un trauma esteso bensì di un'ecchimosi abbastanza circoscritta c'era una perdita di sangue minima e il livido che si era formato sotto era l'algo a malapena un pollice o poco più ecco una cosa interessante che avrei potuto far notare al mio amico Holmes feci quasi esultante venga un po' a vedere smise di esaminare il corpo del dottor Bray e mi si approssimò esaminando anche egli la ferita alla testa del malese mentre gli illustravo le sue peculiarità molto interessante fece dottore posso osare e chiederle in prestito una delle sue pinzette fui alquanto stupito da quella richiesta ma visto che di riflesso mi ero portato dietro la mia valigetta d'ordinanza come al solito fui ben contento di esaudire la sua richiesta mi ringraziò prese la pinzetta e cautamente si mise ad armeggiare con la testa del malese signor Holmes fece l'ispettore irritato ma non riuscì a terminare la frase perché subito il mio amico si tirò su mostrandoci qualcosa di piccolo e quasi invisibile alla tenue luce della ghiacciaia aguzzai lo sguardo per vedere cos'era che stringeva nella pinzetta e con me l'ispettore e gli agenti che ci circondavano una scheggia di legno dichiarò altra dimostrazione che è stato colpito con il bastone distrutto nel camino beh sì ovviamente sbuffò Dubs ma ormai importa davvero poco che cosa sia stato usato per tramortirlo e colpevole è preso e importa solo questo si tratterebbe del nipote del defunto dottor Bray se non ho capito male ovvero il signor Hog fece il mio amico esattamente rispose l'ispettore Aldo Hog un tipo assai poco rispettabile si tratta di un fannullone un perdigiorno uno scialacquatore che non impiega il suo tempo se non per bere e sperperare denaro al gioco l'archetipo del criminale insomma ma a parte questo che evidenze ci sono che sia stato lui chiese Holmes che evidenze ci sono rise Sam Dubs senza rispetto ebbene abbiamo l'evidenza suprema l'arma del delitto un coltello crismalese è stata rinvenuta ancora sporca di sangue nella camera del responsabile e dicendo così estrasse da una tasca della giacca un pugnale avvolto in un fazzoletto che ci mise sotto il naso per farcelo esaminare era una lunga lama ondulata con un piccolo gioiello nel manico e finemente zigrinata sul rovescio nei pressi dell'Elsa sarebbe stata davvero magnifica se non fosse stata intrisa di sangue ormai secco lungo tutto il suo corpo fin quasi all'impugnatura non ci sono più dubbi è stato lui ribadì Dubs e che motivo avrebbe avuto per farlo lo incalzò il mio amico mentre ancora esaminava il coltello sarà il notaio a spiegarglielo anche se onestamente la risposta mi pare palese fece l'ispettore rimettendo via il Chris soldi signore che altro Hogg ha voluto solo simulare una rapina per questo ha distrutto il soggiorno dietro invito di Sam Dubs uscimmo dalla ghiacciaia dopo aver fatto ricoprire i cadaveri e ci avviammo verso la scena di uno dei delitti tuttavia ripassando per la cucina Holmes si arrestò di botto e si accostò al tavolo della servitù la sua attenzione pareva inspiegabilmente attratta da un piatto di pesce mezzo consumato condito con limone e molto prezzemolo si abbassò ad osservarlo e ad annusarlo poi prese ad esaminare una boccetta vuota che era poco lontano sempre sul tavolo beh fece l'ispettore seccato cosa c'è adesso questo merluzzo è stato condito troppo sentenziò il mio amico lasciandoci tutti di stucco mi domando a chi possa piacere tutta questa quantità industriale di prezzemolo la pianti Holmes e mi segua rispose l'ispettore sbrigativo si quella è stata l'ultima cena dei defunti sono certo che risulterà dalle autopsie ora se volete farmi il piacere di seguirmi rientrammo nel salotto e immediatamente l'ispettore mettendosi a gesticolare cominciò ad illustrare la supposta dinamica dell'aggressione come ha detto Aldo Ogg ha voluto solo simulare una rapina finita in tragedia disse sicurissimo di sé per prima cosa ha ucciso il servitore e ha rinchiuso la cameriera nello sgabuzzino per non avere intralci poi ha preso il coltello Chris dalla collezione di armi appesa laggiù ed è salito nella camera di suo zio ammazzandolo poi ha nascosto il pugnale è tornato giù e ha cominciato a mettere a suo quadro la stanza non abbiamo ancora avuto il tempo di perquisire di intorni di qui ma sono sicuro che da qualche parte troveremmo la supposta refurtiva si tratta di un po' di argenteria di un quadro e di un prezioso crocifisso d'oro se posso permettermi oggetti un po' troppo eterogenei perché questa storia sia credibile è una base un po' debole questa per la sua ipotesi ispettore Dubs lo interruppe Holmes la mia non è un'ipotesi è la verità ringhiò l'altro offeso e poi se permettete non ho ancora finito di parlare anch'io all'inizio credevo si trattasse di una semplice rapina tuttavia esaminando il resto della casa mi sono accorto che tutte le altre stanze a parte il soggiorno erano perfettamente in ordine nonostante vi fossero molte cose da portare via quindi mi sono chiesto perché limitarsi a saccheggiare un solo ambiente se si sono già neutralizzati tutti i possibili impedimenti e se si ha un'intera villa a disposizione mi sono insospettito soprattutto dopo aver parlato col nipote del dottor Braille è un arrogante e un supponente e si è rifiutato di collaborare non mi sono stupito quindi che perquisendo la sua camera personale vi sia stata ritrovata l'arma del delitto è stato lui senza ombra di dubbio e il movente sarebbe chiese il mio amico in tono vagamente scettico di questo lascerò che ve ne parli chi ne sa decisamente più di me dichiarò l'ispettore Dubs stranamente umile per poi chiamare signor Moy signor Moy il notaio che fino a quel momento era rimasto seduto ad aspettare su un divanetto osservando con fare dubbioso e indagatorio le ricerche di Holmes si alzò subito in piedi e venne da noi il suo fare un po' nervoso non era mutato da quando ci aveva riscontrato alla stazione e il suo tono non poteva fare a meno di vacillare mentre parlava con noi sicuramente era rimasto scosso da tutta quella faccenda glielo si leggeva in faccia ebbene signori cominciò si è trattato temo di una questione d'eredità era abbiente il dottor Brai chiese subito Holmes molto abbiente no fece il notaio diciamo che era benestante i frutti dei suoi studi gli erano valsi una cattedra presso un piccolo ma prestigioso istituto e nel corso degli anni ha accumulato un patrimonio non indifferente viaggiava spesso prima di ritirarsi qui sa aveva abbastanza liquidità da permetterselo il suo maggiordomo esotico fu diciamo il souvenir di uno dei suoi viaggi capisco annui il mio amico proceda pure dicevo si tratta senza dubbio di una questione di eredità proseguì il signor Moy vedete il dottor Brai era un uomo molto preciso e rigoroso e quando anni fa mi nominò suo esecutore testamentario ha cambiato le sue ultime volontà così tante volte che ne ho perso il conto l'ultima versione che risale a qualche mese fa è molto bizzarra se posso permettermi bizzarra in che senso chiese Holmes nella formulazione precisò il notaio ha diviso tutto il suo patrimonio in frazioni e ha assegnato ai vari beneficiari le proporzioni che evidentemente riteneva giuste secondo un calcolo assai complesso tramite funzioni disequazioni sommatorie e altri procedimenti matematici con cui non vi annoierò c'è tuttavia una clausola perentoria che esclude dalla realità coloro i quali siano stati perseguiti dalla legge o che comunque non abbiano dimostrato di condurre una vita degna e prova vedete il dottor Bra in questi ultimi anni era divenuto molto religioso e timorato di Dio per questo sì lo incalzò Holmes per questo ha avuto ben più di uno screzio con suo nipote affermò l'altro sconsolato è sempre stato un ragazzo difficile da che mi ricordi non è mai andato d'accordo con suo zio ed ogni anno successivo alla sua adozione è sempre stato peggio temo che quel povero ragazzo si sia perso col tempo quindi in base alla clausola del dottor Bra concluse Holmes egli sarebbe escluso dal testamento purtroppo sì signora posso sapere chi ne sono i beneficiari a parte lui beh ecco esitò il notaio sì gli altri sono Dido Oag l'altra nipote nonché principale beneficiaria dell'eredità il suo domestico malese Ted Van Pistors che tuttavia ormai il signore la blingloria è da escludere in quanto deceduto la cameriera signorina Alice Comp e infine il sottoscritto quindi anche lei è incluso nelle volontà del dottore puntualizza Holmes sì signore fece moi lui ha sempre insistito per includermi nonostante le mie rimostranze eravate amici di lunga data deduco ci conoscevamo da tanto tempo rispose il notaio accarezzandosi la pelata doveva essere molto affezionato a me perché mi ha sempre citato tra i suoi eredi io gli ho detto molte volte che preferivo espungere il mio nome perché trovavo la cosa di cattivo gusto ma lui ha sempre insistito ha per caso una copia del testamento del dottor brai con sé chiese infine Holmes gradirei esaminarla per avere un quadro più chiaro farò di meglio signore fece l'altro ricordo le somme le somme destinate a ciascuno a memoria secondo l'ultima versione del documento alla signorina Daido Oag sterline 2000 al signor Ogden Moy ovvero sottoscritto sterline 250 al signor Aldo Oag sterline 167 al signor Ted Van Pisturs sterline 56 alla signorina Alice Comp sterline 27 Capite bene signori da dove deriva il mio disagio non è piacevole trovarsi in posizione privilegiata rispetto ad un parente del defunto all'interno delle sue ultime volontà anche per questo il nipote del dottore ce l'aveva con lui Lei è molto preciso signor Moy disse il mio amico calmo Immagino che nel caso di esclusione di uno più beneficiari dalla volontà del defunto le quote spettanti andrebbero ripartite tra i restanti eredi secondo analoghe proporzioni Certamente signore rispose il notaio deciso Molto bene posso sapere dove si trovava la notte del delitto insiste il mio amico a casa mia a Gifford ribadì l'altro il mio domestico lo confermerà non ne dubito la ringrazio molto signor Moy fece Holmes per poi rivolgersi ad Abbs ora ispettore la pregherei di guidarci verso la seconda scena del crimine Lasciammo Ogdemoy nel salotto e salimmo le scale al piano superiore c'erano molte camere e un poliziotto vi faceva zelantemente la guardia Holmes si fermò in mezzo al corridoio per dare una rapida occhiata alla disposizione delle varie stanze poi si diresse spedito verso l'unica con la porta aperta come fu subito chiaro era la camera di Ezra Bray quindi il luogo dove era stato assassinato entrammo l'ambiente era piccolo ma confortevole con un armadio una libreria e un'ampia scrivania di mogano il letto del dottore era in un angolo e ad un segno dell'ispettore ci avvicinammo è lì che è stato ucciso disse è successo mentre dormiva è stato colto di sorpresa il disgraziato Holmes si chinò sul letto sorprendentemente in ordine ed esaminò accuratamente coperte e lenzuola in che proporzione avete disfatto il letto mentre estraevate il corpo del dottor Bray chiese il mio amico calmo come le ho già detto fece l'ispettore irritato sappiamo fare il nostro lavoro a parte la coperta tirata da un lato siamo stati molto attenti a non contaminare la scena del crimine è esattamente così come l'abbiamo trovata Holmes tirò su un lembo della coperta il cui estremo orlo superiore era striato di sangue sul bordo dopo una rapida occhiata lo rimise giù e si rivolse ancora all'ispettore non è stato rubato nulla da questa stanza dico bene fece assolutamente no replicò Dubs risoluto solo e unicamente dal salotto come vedete a parte il letto il resto della stanza è in tonso in effetti pensavo che l'ispettore non avesse tutti i torti dalla parete infatti occhieggiava una fotografia di famiglia presumetti che fossero il dottore sua sorella e i due nipoti nella foto ancora piccoli la cui cornice era finemente cesellata in oro quale ladro sarebbe stato così audace da assassinare il padrone di casa ma al tempo stesso così codardo da non portare via un trofeo facile come quello è precisamente per questo ribadì l'ispettore che la storia della rapina è fallace anche per questo ispettore anche per questo gli rispose Holmes vede sorrise allora la gente finalmente riconosce che ho visto giusto glielo dicevo che ha solo sprecato tempo a venire qui tutto il suo esame non è servito a nulla vedremo vedremo fece Holmes ora che ho visitato tutti gli ambienti essenziali vorrei discutere con i fratelli Hog per sentire la loro versione l'ispettore non era entusiasta del desiderio del mio amico ma comunque ci condusse fuori dalla stanza del dottor Bray verso quelle dei suoi nipoti borbottando a bassa voce durante il tragitto un piantone era di guardia ad entrambe e appena ci vide arrivare si tolse il berretto in segno di rispetto la signorina Hog sa che sono arrivato chiese il mio amico al nostro anfitrione beh no rispose egli seccato nessuno gliel'ha ancora annunciato bene provveda subito disse semplicemente Sherlock Holmes le dica che desidero parlare con lei Sam Dubs avrebbe nuovamente voluto obiettare ma un'occhiata da parte del miglior consulente investigativo di Inghilterra gli fece subito cambiare idea allora entrò nella prima camera sentimmo che scambiava qualche parola con una voce femminile poi riaprì la porta e ci fece segno di entrare la stanza della signorina Dido Hog era molto pulita e ben ordinata esattamente come si confaceva ad una ragazza per bene e di buona famiglia per questo mi sembrava tanto più improbabile che ella fosse compartecipe di quei brutali assassini anche solo come complice del fratello la chiamo ragazza ma in realtà era una donna quasi fatta non doveva aver più di 18 o 19 anni ma la sua natura apposata e il suo portamento composto tradivano una maturità non comune per la sua età aveva occhi chiari e lunghi capelli biondi raccolti in una crocchia e sedeva inquieta sul letto a guardarci pareva intimorita dalla presenza di tutti noi ma Holmes la rassicurò immediatamente non si preoccupi signorina le disse il mio amico calmo appurerò quanto è realmente successo in questa casa durante l'assenza sua e di suo fratello di questo può stare certa oh signor Holmes lo spero proprio sospirò ella sconsolata il destino mio e soprattutto quello di mio fratello è interamente nelle sue mani ma se già non confidassi nelle sue capacità non l'avrei fatta venire fin qui io e Aldo siamo vittime di una terribile ingiustizia e una cosa per volta signorina la interruppe Holmes desidero andare con ordine certo concordò lei prontissima a collaborare potrei restare ad assistere al colloquio e anche la presenza dell'ispettore Dubs dovette essere tollerata mi descriva innanzitutto gli esatti rapporti che legavano voi due a vostro zio fece il mio amico va bene comincerò dal principio allora iniziò dai dog il professore era nostro zio materno nostra madre era infatti sua sorella quando eravamo ancora bambini però la disgrazia si abbatte sulla nostra famiglia nostro padre sotto ufficiale sull'HMS doterel fu tra coloro che perirono nel suo naufragio e nostra madre morì di dolore l'anno successivo l'unico parente che ci restava era nostro zio che ci prese con sé e ci adottò il rapporto tra me e il professore è sempre stato buono e all'inizio anche quello tra Aldo e lui lo era tuttavia la spronò Holmes io io volevo molto bene a nostro zio esitò la signorina Hog tuttavia devo ammettere che poteva essere davvero soffocante a volte Aldo crescendo maltollerava sempre più la sua autorità e la sua devo ammettere a volte eccessiva devozione cristiana cominciò a scappare regolarmente di casa e a frequentare cattive compagnie e nostro zio non l'ha prese bene ho tentato molte volte di convincerlo a ravvedersi ma non mi ha mai ascoltata e nonostante tutto viveva sempre qui con voi sì signor Holmes ma solo per necessità il professore gli passava una piccola rendita mensile anche nella speranza che si trovasse una sistemazione da qualche altra parte tuttavia Aldo preferiva sperperarla al gioco così alla fine nostro zio ha smesso di dargliela e mio fratello si è ritrovato bloccato qui mi duele dirlo ma litigavano spesso però le garantisco signore che mio fratello non odiava nostro zio e non gli avrebbe mai fatto del male era a conoscenza del fatto che il dottor Bray nel suo testamento l'aveva praticamente diseredato mio dio no quanto meno è quello che spero ma ne sono abbastanza convinta se l'avesse saputo allora si che sarebbe andato su tutte le furie Sam Dubs a quel punto si fregò le mani e fu allora che la signorina Hogg si accorse di aver commesso un terribile errore eccola si è tradita gioi l'ispettore il notaio aveva ragione si è trattato di un delitto legato all'eredità no signore si sbaglia protestò Dido Hogg le giuro che non intendevo dire questo la prego signorina non si scomponga intervenne Holmes tranquillizzandola si concentri solo su di me adesso mi dica il motivo per cui lei e suo fratello vi eravate recati ad Edimburgo sì certo fece la ragazza riprendendosi devo confessare che è stata una mia idea credevo che qualche giorno lontano da qui e da mio zio avrebbe fatto bene ad Aldo e riuscì a convincere il dottore a lasciarci partire siamo stati via tre giorni ed è stato un soggiorno abbastanza tranquillo ci siamo trovati bene e non immaginavamo neanche lontanamente che che Holmes comprensivo le concesse qualche secondo poi la lasciò continuare siamo stati noi a ritrovare il dottore e il povero Ted al nostro ritorno proseguì lei abbiamo immediatamente avvertito la polizia ma abbiamo trovato fin da subito molta ostilità e sospetto nei nostri confronti a nulla ci è valso ripetere che non ci eravamo mai allontanati da Edimburgo e abbiamo dato il nome del nostro pensionante come testimone di ciò visto che rientravamo sempre agli orari prestabiliti invece pare che egli interrogato abbia detto che proprio la sera dell'assassinio mio fratello non ha pernottato lì e questa non è che una spudorata menzogna è vero chiese allora Holmes all'ispettore verissimo rispose Sam Dubs siamo stati molto rigorosi nel prendere la sua testimonianza ed egli ha affermato categoricamente di non aver visto il signor Alto Hogg rientrare nella pensione la sera del delitto posso sapere il nome di questo pensionante chiese nuovamente Holmes Rayal Mr. Rayal rispose pronta dai dog anche della sistemazione presso co de sto signore se ne è occupata lei beh sì anche se ammetto che non essendo pratica di Edimburgo avevo chiesto consiglio al signor Moy che invece ne è un profondo conoscitore mi ha indicato varie sistemazioni ma mi ha raccomandato proprio quella del signor Rayal e io ho seguito il suo consiglio come potevamo sapere tutti noi che quel disonesto fosse un mentitore della peggior specie capisco fece Holmes la ringrazio molto per il suo resoconto signorina le garantisco che mi impegnerò al massimo in questa faccenda per consegnare il colpevole alla giustizia ci alzammo ci inchinammo ed uscimmo dalla stanza signore poteva anche risparmiarle questa falsa speranza rispose l'ispettore sorgnone il colpevole è già assicurato alla giustizia perché si tratta di suo fratello Aldo Hog io aspetterei a mostrarmi così convinto fece il mio amico calmo ora se non le dispiace ho bisogno di fumarmi una sigaretta no Watson non può venire necessito di stare da solo non insistetti perché sapevo bene che quando Holmes si isolava era perché i suoi processi logici erano in pieno svolgimento e la semplice presenza di un esterno avrebbe potuto disturbarlo ed irritarlo fino all'inverosimile così io e Sam Dubs rimanemmo in cima alle scale ad osservare il consulente investigativo che discendeva agilmente per prendersi un vitale momento di pausa gran bel soggetto questo Sherlock Holmes fece allora l'ispettore provocatorio finché non lo si vede di persona si potrebbe quasi credere che un tipo del genere non possa esistere già mi limitai a rispondere io non troppo accattivato dai suoi modi spicci ora che l'ha visto in azione non potrà negare che invece esista ma per carità assolutamente no si schermì l'ispettore ma ribadisco che ormai il suo intervento è superfluo il caso è bello che chiuso preferino sprecare altro fiato perché con Sherlock Holmes niente era mai davvero chiuso finché egli non aveva detto l'ultima parola passarono alcuni minuti durante i quali l'ispettore divenne sempre più impaziente poiché il mio amico non tornava ma quanto gli ci vuole per fumarsi una dannata sigaretta sbottò infine avviandosi verso il pian terreno per rintracciare Holmes e se putacaso fosse stato abbastanza coraggioso per dirgliene quattro ma non riuscì ad arrivare in tempo al portone perché venne intercettato dal notaio Moy non appena sceso l'ultimo gradino delle scale signor ispettore signor ispettore fece egli in tono rispettosissimo se non le dispiace è molto tardi col suo permesso gradirei tornare a casa mia ah è lei signor notaio fece l'ispettore seccato va bene vada vada pure tanto ha già fornito la sua testimonianza proprio allora rientro Holmes dall'esterno forse fu solo una mia impressione ma mi parve che un lieve sorriso inarcasse le sue labbra quasi come fosse soddisfatto per qualcosa ispettore Dubs esclamò non appena ci ebbe raggiunto mi perdoni se l'ho fatta attendere aveva un disperato bisogno di tabacco e così dopo la prima sigaretta ne ho fumate un altro paio di seguito ah signor Moy mi duele dirle che non potrà andar via stasera da Brymenor e come mai chiese il notaio confuso temo che la sua carrozza se ne sia andata cosa il notaio rosso per lo stupore corse fuori dal salotto nell'ingresso buio lo seguimmo e constatammo che effettivamente la sua carrozza se ne era andata il povero notaio era molto avvilito e presa a lamentarsi rumorosamente e che volete farci signore fece l'ispettore Dubs laconico si sa come sono questi vetturini la maleducazione è fatta a persona d'altro canto non credo che ci siano problemi se per stanotte soggiornerete qui ben detto ispettore si rallegrò Olms anche lei e i suoi uomini presumo vi tratterrete beh esitò Dubs oramai l'orario comincia a essere piuttosto in là e dubito che la diligenza da Edimburgo arriverà prima di domattina e deve aver avuto uno dei suoi soliti guasti ma non importa non è certo una notte fuori casa che scoraggia i rappresentanti delle autorità questo zelo le fa onore disse Olms ora permetta sia altrettanto zelante nell'accompagnarci dal signor Aldo Hog sebbene borbottando l'ispettore ci condusse nuovamente al piano di sopra dopo aver fatto accomodare lo sconsolato Hog de Moy in una stanza degli ospiti libera Sam Dubs ci fece entrare nell'unica stanza che non avevamo ancora visitato ovvero la camera del giovane nipote dell'assassinato egli era dentro ammanettato al montante del letto ed era schiumante di rabbia non appena entrammo cominciò a riempirci di improperi che qui non riporto per salvaguardare la buona decenza un altro maledetto sbirro disse tra una bestemmia e l'altra quante dannate volte volete interrogarmi per sentirmi ripetere le stesse cose io non c'entro nulla con la morte del vecchio mia sorella può confermarvelo mentre Sam Dubs sorrideva sardonico Olms cercò di intavolare una conversazione col furioso arrestato ma l'altro non sembrava molto collaborativo solo dopo molto riuscì a darsi una calmata e a rispondere in modo coerente ma tutto sommato non aggiunse nulla di nuovo al resoconto della signorina Daido si irritò molto quando il mio amico gli chiese dei suoi rapporti con lo zio e delle sue cattive abitudini si faccia si faccia gli stramaledetti affari suoi tu o no allora deve importare solo a me come spendo i miei soldi non a quell'impiccione di mio zio e né tanto meno a lei ma chi la conosce poi come si permette di entrare così a fondo nella mia dannata vita è solo la mia professione si limitò a rispondere lui se putacaso non l'avessero informata io sono Sherlock Holmes e sono qui per fare chiarezza su questa sporca faccenda sapendo infine chi aveva davanti Aldo Og parve un po' abbassare la cresta si fece torvo e taciturno e alle domande del mio amico rispondeva a monosillabi oppure non rispondeva proprio il nome Rayal non le dice nulla gli domandò infine Holmes Rayal ringhiò allora egli quel quel mente quello mente non so perché ma mente io e mia sorella non ci siamo mossi dalla sua lurida topaia a quel contaballe appena posto gli taglierò la lingua Holmes per qualche motivo parve molto soddisfatto da quella risposta ora al duplice omicidio si aggiungono anche le minacce sugghignò l'ispettore la corte sarà molto contenta di sentire tutto ciò al processo abbiamo finito fece Holmes ignorandolo signor Og la ringrazio per la disponibilità il suo contributo è stato fondamentale io non c'entro nulla Mugugnò l'arrestato ribadendo la sua posizione io non c'entro nulla lo so signor Og lo so disse il mio amico alzandosi a quelle parole Sam Dubs storse visibilmente il naso e quando fumo usciti pensò di fare al mio amico una bella reprimenda signore cominciò tutto offeso la prego di non dare false speranze a quell'assassino c'è già una corda che attende il suo collo perché abbiamo prove schiaccianti contro di lui e io ispettore replicò Holmes senza scomporsi le direi di non giungere a conclusioni affrettate questa faccenda è più complessa di quel che sembra anzi direi che è proprio l'apparenza la chiave di volta qui ci sono molti moltissimi punti interessanti e lei non è accolti che solamente un paio l'ispettore dubs interdetto non trovò nulla da replicare se non erro continuò il mio amico oramai ci manca solo la cameriera la signorina comp ah inutile signore fece l'altro alzando le spalle da ieri è in preda a crisi isteriche continue non riuscirà a cavarle nulla di bocca così come non ne sono stati capaci i miei uomini persino quelli più versati col gentil sesso vedremo rispose Holmes ora per favore ci conduca subito da lei così poi potremo andare tutti a dormire ero abbastanza stanco dopo quella lunga giornata di viaggio prima ed indagini poi per cui quella prospettiva non mi dispiacque mi accorsi che anche l'ispettore non era del tutto contrario all'idea così forse pensando che avrebbe potuto finalmente mettere in un angolo Holmes facendogli fallire almeno il colloquio con la cameriera ci condusse nuovamente al piano di sotto verso la cucina da qui prendemmo un breve corridoio laterale e ci ritrovammo nei quartieri della servitù davanti alla porta della camera della signorina comp stazionava un'altra guardia ora sta dormendo ci informò ebbene mi dispiace molto ma dovremo svegliarla fece Holmes implacabile è necessario raccogliere anche la sua testimonianza le ripeto disse Dubs che questa ancora più di tutto il resto è solo una grossa perdita di tempo non le riuscirà a saper nulla di utile da questa giovane nello stato in cui si trova è per questo che il dottor Watson è qui replicò il mio amico rivolgendosi poi a me dottore di noi due lei è quello che ha più dimestichezza con le donne le dispiacerebbe condurre per me il colloquio con la signorina a comp essendo un medico potrebbe somministrarle un calmante per farla tornare in sé va bene accettai farò del mio meglio non ero preparato ad entrare così personalmente in azione ed ero piuttosto stanco tuttavia non avendo avuto fino ad allora un ruolo attivo in quella storia confesso che mi stavo un tantino annoiando e questa novità stuzzicò il mio orgoglio entrammo era una cameretta molto piccola ma confortevole la signorina a comp era profondamente addormentata sul suo lettuccio e dai movimenti nervosi che l'agitavano era evidente che il suo sonno era molto leggero e irrequieto si trattava di una ragazza piuttosto giovane solo qualche anno in più della signorina e anche senza parlare seppi subito che quella storia doveva averla profondamente sconvolta sul piano personale Holmes e l'ispettore rimasero indietro vicini all'ingresso lasciando a me l'ingrato compito di svegliarla e di condurre il colloquio cercai di essere il più dolce possibile con lei mi avvicinai al letto mi chinai sulla ragazza e mi schiarii la voce prima piano e poi un po' più forte nel frattempo scuotendole delicatamente una spalla ella si risvegliò solo dopo alcuni tentativi e mi guardò assai confusa signorina esordì cercando di essere il più chiaro e gentile possibile mi dispiace moltissimo disturbarla in questo modo ma è per una faccenda molto importante io sono il dottor Watson e se non le dispiace vorrei porle alcune domande è d'accordo la povera cameriera mi fissò con tanto d'occhi smarrita aveva delle enormi occhiaie e il viso ancora rigato dalle innumerevoli volte che in quei pochi giorni aveva pianto nonostante non sembrasse del tutto in sé con un lieve e debole cenno del capo accettò comunque che la interrogassi la ringrazio infinitamente continuai potrebbe raccontarmi come sono andate le cose in quella sera ci 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 proverò farfugliò lei cominciando subito ad agitarsi io io e Ted eravamo come come al solito sì come al solito qui in casa col padrone e io avevo preparato la la cena ogni suo pezzo di frase era intervallato da singhiozzi di crescente intensità ed era sempre più difficoltoso starle dietro sta andando molto bene tentai di incoraggiarla la prego continui e e proseguì la povera cameriera sì abbiamo mangiato e sì sì e anche il padrone aveva mangiato e poi poi l'aggressione disse Holmes laconico nell'angolo quell'improvvisa intromissione ebbe un effetto devastante sulla signorina perse quel poco controllo di sé che ancora riusciva a trattenere con le unghie con i denti e scoppiò nell'ennesimo pianto disperato dando inizio ad una nuova crisi isterica mi girai immediatamente per fissare scandalizzato il mio amico che tuttavia rimase impassibile alle sofferenze di quella povera ragazza non solo concordavo con lui sul fatto che con le donne fossi io quello che sapeva più trattarci ma finalmente cominciavo a rendermi conto che l'atteggiamento di Holmes nei loro confronti certe volte sfiorava la villania come anche in quel malaugurato caso evidentemente lo smacco subito non molto tempo prima dalla signorina Irene Adler doveva bruciargli ancora tornai allora a curarmi della signorina comp che cercai di confortare come meglio potevo faccio mea culpa e ammetto che in quel periodo la mia valigia da medico non era molto rifornita il massimo che potei offrire alla cameriera furono delle compresse di magnesio che però l'avrebbero fatto tornare in sé solo dopo un bel po' di tempo le feci comunque portare dell'acqua e le feci assumere le pillole che per fortuna sembrarono agire più velocemente di quanto persino io sperassi non dico che tornò del tutto in sé ma perlomeno riuscì a ridarsi una parvenza di contegno per continuare la nostra conversazione eravamo rimasti al momento del del fatto ripresi cercando di essere quanto più delicato possibile sì fece lei tartagliando come le mitragliatrici getling che proprio allora l'esercito di sua maestà stava cominciando ad impiegare in massa io e Ted avevamo appena finito di mangiare e anche il padrone credo pesce sì 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 era il pesce all'improvviso abbiamo sentito dei rumori sì sì dei rumori provenire dal salotto Ted era è andato a controllare e quindi avete mangiato anche lei e Ted il pesce? se ne uscì all'improvviso il mio amico Holmes sbottai allora decisamente seccato ma era già troppo tardi interrotta proprio nel momento cruciale la signorina comp dopo aver scosso violentemente la testa alla domanda si era abbandonata di nuovo alla sua terribile e implacabile disperazione io 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 pianse come pensavo fece Sherlock Holmes impassibile mi ci volle un bel po' di tempo per far calmare la povera cameriera ma oramai ogni discorso era inutile la crisi sterica l'era ripresa più forte di prima e non riusciva a dir più di due parole di senso compiuto l'una dietro l'altra alla fine sconsolato le diedi dei sonniferi e la lasciai di nuovo a dormire della grossa nella sua stanzetta mentre camminavamo Holmes non parlava stando davanti a me e all'ispettore e andando avanti in silenzio come riflettendo certo che il suo amico è proprio inopportuno mi sussurrò l'ispettore Dubs nemmeno io ho avuto il cuore di tartassare così quella povera figliuola ma non ha del ritegno quel tipo purtroppo non che io sappia sospirai sconsolato oramai conoscevo fin troppo bene il mio amico Sherlock Holmes e sapevo che il suo agire non era mai immotivato mi augurai che fosse anche in quel caso come sempre un agire giustificato e mi rassegnai a seguirlo ovunque volesse ora andare per fortuna pareva che anche lui non fosse immune alla stanchezza una volta tornati nel salotto Holmes si girò verso di noi e ci sorrise bene signori disse credo che per stasera abbiamo lavorato abbastanza rimandiamo tutto il resto a domattina ora andiamo pure a dormire tutto il resto sbuffò Sam Dubs signor Holmes non c'è nessun resto domattina arriverà il convoglio da Edimburgo per prelevare l'assassino e il caso sarà chiuso eccole il suo resto ha perfettamente ragione ispettore fece Holmes sempre sorridendo allora vede finalmente lo riconosce esultò l'altro a quelle parole dopo tutte queste inutili lungaggini ha compreso che il colpevole è senza ombra di dubbio il signor Aldo Og ha assolutamente torto ispettore rispose Holmes candido beh io proprio non la capisco esclamò Dubs esasperato mi vuole dire cosa tutto a suo tempo ispettore tutto a suo tempo replicò il consulente investigativo vedrà che alla fine capirà anche lei le auguro la buonanotte e senza più dir nulla si avviò verso la stanza che c'era stata assegnata lasciando l'ispettore Sam Dubs impietrito e più indispettito che mai nel salotto suppongo che abbia già risolto il caso Holmes dissi non appena ci fummo chiusi nella nostra camera posso dire dissi Watson rispose il mio amico per scrupolo debbo solo trovare un'ultima conferma che tuttavia non potrò avere prima di domattina capisco in realtà non ci capivo proprio nulla nonostante pensassi che in effetti la versione dell'ispettore Dubs presentasse alcune forzature qui e là non riuscivo tuttavia a trovare una dinamica dei fatti alternativa tutti gli indizi sembravano puntare inequivocabilmente sulla colpevolezza del nipote del dottor Bray e quindi non avevo proprio idea di come potesse fare Holmes a dimostrare il contrario tuttavia egli mi aveva già stupito innumerevoli volte e confidavo che come sempre alla fine tutti i tasselli sarebbero perfettamente tornati al proprio posto non dormi molto quella notte ma quanto bastava perché il risveglio mi fosse brusco mi fece destare un leggero tocco sulla spalla poiché il mio sonno non era mai stato dei più pesanti ben svegliato Watson fece Holmes che come al solito si alzava molto presto mi farà il piacere di unirsi a me per una passeggiata mattutina oh no non c'è tempo per fare colazione su faccia in fretta a prepararsi io l'aspetto giù nel salotto ancora intontito per il sonno residuo mi vestì e mi precipitai giù dalle scale a parte il piantone mezzo addormentato in piedi nel corridoio non incontrai nessuno Bray Manor era silente e deserta il salotto grigio che sembrava ora tristemente abbandonato alle prime luci dell'alba che filtrava dalle finestre l'unica nota di colore era Holmes nella sua consueta giacca rossa e col suo berretto da caccia in testa il quale mi attendeva tranquillo davanti all'ingresso fumando la pipa ci ha messo un po' amico mio mi apostrofò mettendo via la pipa su avviamoci o rischiamo di non tornare in tempo in tempo in tempo per cosa domandai sbadigliando per l'arrivo della diligenza della polizia di edimburgo fece Holmes tranquillamente mentre uscivamo date le condizioni non proprio eccellenti della strada da haddington fino a qui ritengo che avremo circa un'ora a disposizione la prego dottore allunghi il passo quasi trascinandomi uscimmo da braimhenor e seguendo un sentiero laterale cominciammo ad inerpicarci per le erte dell'hammerlow Holmes si faceva a strada in mezzo alle erbacce con una bizzarra sicurezza quasi che sapesse già dove andare mentre io arrancavo dietro di lui tentando di seguire meglio che potevo il sentiero che si faceva sempre più incerto stavo quasi per lamentarmi con Holmes per quella sua ennesima stravaganza ma alla fine rinunciai oramai ben sapevo il temperamento del mio amico come ero consapevole del fatto che protestare non mi sarebbe servito a nulla camminammo in avanti per un po' tanto che pensai che stessimo per arrivare in cima al monte alto più di 1700 piedi e stava cominciando a venirmi una crescente sensazione di dolore ai fianchi per quello sforzo a cui non ero abituato tuttavia Holmes ad un certo punto deviò dal sentiero e si precipitò in mezzo alle frasche come se avesse scorto qualcosa sospirando per i miei mocassini oramai neri di terra e verdi d'erba mi affrettai a seguirlo e fui subito colpito dall'odore nauseabondo che proveniva dalla macchia dove Holmes si era infilato ma cos'è questo fetore chiesi disgustato da quello che sembrava lezzo di urina animale il mio amico non rispose poiché aveva tirato fuori di tasca la sua lente di ingrandimento e aveva cominciato ad esaminare alcuni cespugli lì vicino rassegnato feci un lungo respiro con la bocca e lo raggiunsi l'odore in quel punto era molto intenso ma al contrario di me Holmes pareva rimanerne indifferente per evitare di pestare cose sgradevoli osservavo attentamente il terreno ma non notai nulla di strano mi resi allora conto che il fetore non proveniva da semplici deiezioni animali e mi accorsi che il mio amico era intento a squadrare con cura alcuni fusti di pianticelle che si ergevano fin sopra i nostri busti mi avvicinai e inalando fin troppo profondamente col naso mi resi conto che erano proprio quelle piante a puzzare in quel modo il che mi parve strano poiché mi pareva che si trattasse di semplice prezzemolo selvatico eccezionalmente alto vidi che Holmes stava esaminando con cura le foglie di una delle piante così pensando che i vegetali avessero qualche cosa di particolare feci per staccare una fogliolina per esaminarla più da vicino fermo non la tocchi mi interruppe allora egli scostandomi violentemente facendomi quasi cadere per terra ma è impazzito feci sconvolto è velenosa Watson disse Holmes mettendo via la lente di ingrandimento il solo tocco potrebbe causarle un malore entro pochi minuti era proprio ciò che stavo cercando l'ipotesi che ho formulato è corretta e quindi non può essere che la verità affrettiamoci a tornare a Braimannor la diligenza sarà lì a minuti non ebbi altre spiegazioni e così prendemmo a ridiscendere a rotta di collo il Lammerlow per giungere in tempo alla magione come sempre accade il ritorno fu più breve dell'andata e non mancava molto alla casa quando Holmes si fermò all'improvviso in mezzo al sentiero e mi bloccò col braccio guardi là fece indicandomi un fosso alcune yarde più sotto un po' discosto dalla stradina in un primo momento non vidi nulla ma poi il sole ormai alto mandò uno dei suoi raggi ad illuminare ciò che stava nella buca da cui si proiettavano fulgi di riflessi qui e là verso l'alto e ciò spiegava perché non ce ne eravamo accorti risalendo il fianco del monte si tratta feci esitante esattamente rispose Holmes prevenendomi è la refurtiva indebitamente sottratta dal salotto di Braimannor ci facemmo strada nel verde e scoprimmo che era effettivamente così nella buca ammocchiati alla rinfusa e bagnati di rugiada si trovavano vari piatti e stoviglie d'argento un quadro che raffigurava un vecchio militare in alta uniforme e il grande crocifisso d'oro che in passato aveva troneggiato nel salotto della villa allora l'ispettore aveva ragione commentai sì riguardo la falsa rapina rispose Holmes ma sul resto temo che abbia completamente torto proprio allora sentimmo forte e chiaro il nitrito di un cocchio di cavalli così non perdemmo tempo a portarci dietro gli oggetti rubati e ci affrettammo a concludere la discesa dell'Amerlow arrivammo giusto in tempo quando giungemmo davanti all'ingresso di Braimannor il drappello di poliziotti l'ispettore d'Abs in testa stava conducendo verso il cocchio appena giunto da Edimburgo fermo a qualche metro di distanza i cadaveri del professore e del servo malese e subito dietro di essi il giovane Aldo Ogg furioso e ammanettato a poca distanza sua sorella Daido evidentemente non considerata per il momento complice perché era libera lamentava ad alta voce l'innocenza del fratello ed era trattenuta dal precipitarsi da lui da un agente grande e grosso mentre Sam Dubs rimaneva insensibile ai suoi richiami e continuava a fissare con cipiglio seriamente fiero la diligenza delle forze dell'ordine davanti a sé un po' discosto ad osservare la scena con curiosità e anche un po' con vergogna e rammarico stava il notaio Moy che si copriva la testa quasi calva con una bombetta grigia Che sta facendo ispettore? chiese infine tranquillamente Sherlock Holmes giungendo sulla scena Come signore non lo vede? fece Sam Dubs quasi offeso per quella domanda apparentemente insensata Sto assicurando un delinquente alla giustizia Cos'è? Forse il sole del mattino le ha dato alla testa? Per quanto la sua seconda affermazione volesse risultare sarcastica nei miei confronti replicò Holmes senza scomporsi devo invece comunicarle che la sua prima è del tutto errata Ma che sta dicendo? chiese l'ispettore seccato Sto dicendo semplicemente che lei sta trattenendo la persona sbagliata Tutti a quell'affermazione trasalirono Aldo Og compreso il quale sembrava aver del tutto rinunciato alla possibilità di provare la sua innocenza Cosa? fece l'ispettore Dubs incredulo Che cosa ha detto? Ho detto ripete Holmes che lei sta trattenendo la persona sbagliata per questi crimini Tornato che fu in silenzio il mio amico si diresse allora a passo spedito verso il notaio Moy non meno meravigliato di tutti noi altri Signor Moy gli si rivolse Holmes e strenda un involto di tasca Posso chiederle un piacere? L'altro annui meccanicamente assai scosso Potrebbe cortesemente analizzare questo campione vegetale che ho prelevato poco fa dalla cima del monte la Merlot? gli domandò allora Lei è un botanico saprà senz'altro identificarlo e per favore comunichi i suoi risultati ad alta voce così che tutti i presenti possano dirli Il notaio prese in mano l'involto che Holmes gli porgeva e lo scoprì Tutti vedemmo bene come alla vista della piantina recisa che conteneva il suo volto grassoccio e butterato in pallidi Odore odore assai sgradevole simile ad una deiezione animale fece infine l'ometto radichette spesse e bianche fusto verde pallido tendente al rossiccio verso la parte inferiore più legnosa foglie a fasci triangolari e dentate il genere è senza dubbio conium la specie conium maculatum direi pianta nota altresì come cicuta terminò Holmes all'apparenza una pianticella spontanea simile al prezzemolo se si eccettua il suo lezzo ma in realtà un veleno potentissimo che può uccidere un uomo adulto anche con dosi minime e in qualsiasi forma venga assunto gassosa liquida e solida soprattutto se ad essere ingerite sono le foglie il notaio a quella spiegazione che sicuramente per lui non era necessaria prese ad ansimare rumorosamente tutti eravamo col fiato sospeso bene signore concluse Holmes adesso può terminare la sua recita oramai è chiaro non è stato il signor Aldo Hog ad assassinare il professor Bray e il domestico Van Pisturs con la violenza bensì lei il signor Ogden Moy li ha trucidati con un'arma più subdola ma che al tempo stesso l'era più congeniale visto che lei è un botanico tutt'altro che amatoriale come vorrebbe fare invece credere la prego lo ammetta così da risparmiare a tutti noi un bel po' di seccature Ogden Moy sconvolto e rosso in volto come un peperone ci fissò a tutti con quello sguardo perso tipico dei colpevoli smascherati quando invece si aspettavano di farla franca poi dopo due secondi di totale sbalordimento si voltò e prese a correre via con una velocità del tutto inaspettata per un uomo basso tarchiato e illacco gli anni come lui per alcuni istanti lo guardammo tutti tra secolati mentre si affannava a fuggire per la campagna la larga giacca di tweed che gli ballava da una parte all'altra del corpo poi signor ispettore fece infine Holmes a Sam Dubs mentre con tutta serenità si riaccendeva la pipa credo che debba inviare uno dei suoi uomini a fermarlo altrimenti c'è il serio rischio che riesca a scappare solo allora Dubs si discosse e a metà tra l'infuriato e lo spaesato ordinò ad uno dei propri agenti di inseguire il fuggitivo ci vollero pochi minuti per riacciuffarlo poiché Ogden Moy non era certo il prototipo dell'atleta di un club londinese quando il notaio venne ricondotto nei pressi della diligenza della polizia dietro insistenza della signorina Daido ad Aldo Og vennero infine tolte le manette poiché la precipitosa ed improvvisa fuga dell'altro era assai più chiara di una confessione esplicita ma Daido Og evidentemente quel fatto non poteva bastare è vero ciò che è stato detto signor Moy gli si rivolse la ragazza amareggiata è stato davvero lei ad uccidere mio zio e il povero Ted il notaio stretto saldamente nella presa di ferro dei due agenti di polizia non aveva più vie di fuga e oramai tutti i suoi piani erano crollati su se stessi per lui non c'era più nessun motivo di mentire sì Daido lo ammetto sono stato io confessò la voce incrinata dall'angoscia all'udire quelle parole il più sconvolto parve l'ispettore di polizia che vedeva sciogliersi come neve al sole tutte le sue oramai saldissime convinzioni come sarebbe sbottò si spieghi meglio e dica un po' perché è fuggito proprio adesso perché Sherlock Holmes mi ha smascherato ispettore fece disperato mio dio sapevo che sarebbe finita così fin dal primo momento in cui l'ho visto infatti signor Moy sintromise Holmes ho notato fin da principio l'apprensione con cui mi osservava sapendo bene chi ero e devo dire oramai ho imparato a distinguere la semplice ansia da primo incontro con una persona rinomata dal timore di essere scoperti dopo che si è commesso un delitto si tratta di comportamenti vagamente simili tra loro ma assai distinti probabilmente ne tratterò le differenze in una monografia appena avrò il tempo di dedicarmici ma la prego vada avanti dica come sono davvero andate le cose e lei sicuramente potrà illustrarle meglio di me anche se mi creda non durerei molta fatica al suo posto nel narrare lo svolgimento di questi tragici eventi Ogden Moy messo alle strette si prese un attimo di riflessione davanti a lui c'era tutta una piccola folla che di certo doveva sembrargli come la giuria del suo ormai imminente processo è stata tutta colpa sua sbottò infine non potendosi più trattenere colpa di chi di grazia chiese l'ispettore rude del professor Bray come gli piaceva farsi chiamare di Ezra non c'era solo il più profondo odio nella voce fino ad allora quasi pietosa del piccolo notaio ma anche molta amarezza e rimpianto come il sentore di una vecchia vecchissima delusione che non gli era mai del tutto passata e si spieghi meglio lo incalzò Dubs Ogden Moi tacque per un secondo è stata colpa sua insistette poi la voce piena di livure avrete sicuramente presente il teorema algebrico di Bray lo interruppe Holmes completando la frase non dica così gli gridò Moi quasi rigettando i suoi polmoni doveva essere il teorema algebrico di Moi non di Bray quel ladro maledetto signori mi ha rubato tutto il lavoro di anni e anni di studi a quella rivelazione i due fratelli Og trasecolarono pure lo scapestrato Aldo ma la più sconvolta di tutti era Daido e il notaio se ne accorse fai bene ad essere sorpresa ragazza mia l'apostrofo egli lo fui anch'io quando mi accorsi del furto la prego racconti esattamente come sono andate le cose allora gli chiese Holmes non certo per scusarlo quanto più per dare un ordine logico e cronologico alla sua confessione la matematica è sempre stata la mia passione fin da ragazzino fece Ogden Moi ormai atono anche anche Ezra la studiava ma solo per dovere mentre io no io n'ero innamorato ci riunivamo spesso per ripassarla insieme ma mentre a me veniva del tutto naturale per lui era qualcosa di meccanico di freddamente professionale non aveva l'immaginazione che avevo io non vedeva né i numeri i collegamenti che vedevo io ed è stato lei il primo ad intuire la particolarità del successivo teorema algebrico in questione concluse Holmes esatto gridò Moi fu io 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 soltanto lo feci notare anche ad Ezra ma lui non mi diede ascolto disse non è nulla di importante Ogden solo un'eccezione come ce ne sono tante ma non mi scoraggiai e studiai più a fondo lessi scrissi pensai a più non posso lavoravo giorno e notte sul mio teorema algebrico perché sapevo che era qualcosa di rivoluzionario tenevo aggiornato anche Ezra sui progressi del mio lavoro perché si dimostrava assai scettico e tentavo quindi di provargli il contrario di ciò che pensava e infine e infine ha definito il teorema fece Holmes sì sì l'ho definito continuò Moy non stavo più nella pelle e corsi a riferire tutto ad Ezra egli come al solito non credette nelle mie idee e mi congedò con poche parole indifferenti come sempre quindi signori immaginate la mia sorpresa il mio disgusto quando qualche tempo dopo vidi comparire nelle riviste scientifiche più autorevoli il mio teorema con il suo nome sopra ero stordito e amareggiato mi sentivo tradito corsi subito a confrontarmi con Ezra ma si rifiutò di ricevermi e continuò a non volermi più incontrare per molto tempo fu allora che la nostra amicizia quella autentica terminò non avevo prova alcuna che il teorema algebrico fosse mio e non suo a parte dei fogli scarabocchiati e quasi illegibili senza adattazione e il suo scetticismo era stato tutto una dannata recita egli aveva capito benissimo le potenzialità del mio teorema e non appena aveva potuto se ne era appropriato daido ragazza mia il tuo caro zio era un ladro è un ladro della peggior specie me l'ha tolto capisci me l'ha tolto rubato il mio teorema signor moi si dia un contegno lo richiamò l'ispettore d'abs il cipiglio più severo che mai adesso è finalmente chiaro il movente disse Holmes soddisfatto ora ci illustri se non le dispiace il piano che aveva così abilmente congegnato per sbarazzarsi del professor Bray non usi quel titolo gridò il notaio divinconandosi come un pazzo in mezzo ai due poliziotti tanto più grandi e grossi di lui non gli spettava non gli è mai spettato me lo meritavo io così come dovevo avere tutta la fama e la ricchezza che ha avuto grazie al mio lavoro dopo poco si calmò e riprese il suo abominevole racconto mentre lui si faceva un nome nella comunità scientifica lontano da Haddington proseguì io rimasi qui gabbato come l'ultimo degli idioti oramai dopo quanto era successo la matematica mi disgustava troppo anche solo come concetto ero del tutto impotente perché Ezra mi aveva rubato un'idea e non si può certo denunciare il furto di un'idea mi dedicai in seguito alla contabilità e come nuovo passatempo alla botanica cominciai a vivere modestamente qui in questa campagna facendo il notaio e studiando nel tempo libero la flora della Scozia meridionale e del monte Lammerlowe in particolare ero talmente nauseato dalla società civile quella stessa società civile che levava su un piedistallo quello spregevole ladro e che al contempo non avrebbe mai riconosciuto la maledetta ingiustizia che avevo subito dopo molti anni credevo di aver finalmente ritrovato la pace questo almeno finché non è tornato lui era molto cambiato sapete da quando l'avevo veduto l'ultima volta si era fatto cattolico zelante e evidentemente a modo suo si era pentito del tremendo torto che mi aveva fatto venne da me e si scusò con tutta la religiosa e civile energia di un pentimento borghese ma signori a me non bastava avevo segretamente coltivato il mio odio verso di lui per anni e anni e anni e delle semplici parole non potevano essere sufficienti fu così quasi per caso che nacque il mio piano volle a tutti i costi farmi il suo esecutore testamentario e mi pagava bene forse per compensarmi dei soldi che non avevo mai guadagnato per causa sua mi incluse addirittura tra i suoi beneficiari sperava di comprarmi il degno professore ma a me oramai interessava una cosa soltanto e non si trattava certo del denaro fu la completa gestione che avevo delle sue finanze a darmi l'idea lui e la sua famiglia di quei soldi e di quella fama ottenuti con la frode non avrebbero mai dovuto godersi nulla egli doveva morire e la colpa doveva ricadere sui suoi congiunti di certo gente non migliore di lui a quella frase Daido trasalì già pallida come un misero straccio era già sul punto di avere un mancamento suo fratello Aldo Ogg inizialmente incredulo a quella confessione era rosso di rabbia e si sarebbe volentieri scagliato addosso all'arrestato io t'ammazzo gridava trattenuto da un agente io t'ammazzo così poi potranno accusarmi a ragione signor Ogg si calmi non ne vale la pena tentavo di tenerlo buono io Holmes in mezzo a tutto quel macello stava ritto in piedi come se nulla fosse attendendo che tornasse il silenzio per poter terminare di udire il racconto dell'assassino lei signor Ogg si infervora tanto contro di me continuò il notaio quando lei e sua sorella il vostro primo nemico l'avete proprio in casa sì mi riferisco a quel Ted che amavate tanto quel malese uscito da chissà quale tana di serpenti lei mente sbottò allora dai dog quasi esanime Ted era un caro carissimo ragazzo e ha cresciuto sia me che mio fratello non si sarebbe mai prestato allora evidentemente non lo conoscevate così bene replicò Moe acido egli doveva essere cresciuto nella miseria più nera nelle indie orientali e quando Braille durante uno dei suoi viaggi se lo portò via senza saperlo si prese tra le mani una bella serpe egli aveva un interesse smodato per il denaro non immaginate quanto fosse avido quell'individuo mi ci volle poco a trarlo dalla mia parte con la promessa di una fetta ingente di eredità allora convinsi Braille ad includerlo nel testamento assieme alla cameriera certo anche lei era complice e si è arrivati alla versione più recente del documento ben sapendo i contrasti tra egli e sua nipote lo portai a mettere una clausola che in caso di guai giudiziari l'avrebbe senza dubbio escluso dalla ripartizione dei beni così come sarebbe successo a sua sorella se riconosciuta complice Aldo Og volle nuovamente gettarsi sul notaio ma venne ancora una volta fermato Og de Moy proseguì tutto era pronto si poteva entrare in azione continuò innanzitutto feci in modo che i nipoti di Braille se ne andassero da qui per qualche giorno presso un mio conoscente di fiducia a cui avevo già detto come comportarsi allora d'accordo col servo Van Pisturs e con la cameriera Komp misi il piano in esecuzione ma cosa che i suoi due complici non immaginavano lo interruppe Holmes era che pure loro dovevano rimanerne vittime Moy non rispose essi non erano e non sono persone migliori di me si limitò a dire come per giustificarsi senza dubbio no rispose Sherlock Holmes ma se non le dispiace ora torniamo al suo resoconto credevo di aver ideato un perfetto piano d'azione fece Moy come sconsolato doveva sembrare che Braille fosse morto di morte violenta per mano del nipote così quel giorno venne a pranzo da lui avevo portato un cesto di cibo in dono al professore e gli avevo raccomandato di farsi preparare tutto quella sera cosa che accettò di buon grado esso conteneva un pesce fresco che di mattina presto ero andato apposta a comprare ad Edimburgo più molti ciuffi di cicuta mascherata da prezzemolo che avevo raccolto il giorno prima l'odore aveva fatto storcere il naso a Braille ma l'avevo rassicurato dicendogli che era una caratteristica del prezzemolo freschissimo e che sarebbe scomparso una volta cotto in un momento in cui si era assentato potei confabulare con i servi li istrui su tutto ciò che avrebbero dovuto fare quella sera lasciai loro un falso sonnifero in realtà acqua colorata da mettere nel pasto dicendo che si sarebbe perfettamente amalgamato col pesce una volta finita la cottura mentre spacciai la cicuta per una varietà di prezzemolo che leniva la sonnolenza se assunto in piccole dosi essi erano ignoranti e mi credettero sulla parola dopodichè me ne andai tornandomene a casa lasciai loro anche un biglietto per essere maggiormente sicuro quel biglietto che lei signore ha ritrovato mezzo bruciato nel cammino lo riconoscerà mi sono affidato a degli incompetenti nonostante questo era oserei dire tremendamente vicino a farla franca rimarcò Holmes vedo che l'ispettore Dubs scalpita per cui concluderò io la narrazione il servo Van Pisturs ignaro di aver ingerito del veleno esattamente come il suo padrone poiché è comune che i servi si cibino degli avanzi dei loro datori di lavoro ha atteso un poco e poi con un coltello è salito in camera del professore Van Pisturs giovane e robusto com'era non aveva ancora cominciato a subire gli effetti del veleno mentre il professor Braille decisamente anziano era già verosimilmente deceduto nel suo letto ma il servo inconsapevole gli ha squarciato il petto da parte a parte credendo che fosse solamente privo di sensi per poi andare a nascondere il pugnale nella stanza del signor Og ecco che era stato simulato il primo falso ma anche vero omicidio subito dopo il malese è ridisceso e ha messo grossolanamente a suo quadro il salotto per dare l'idea di una rapina poi per fingere un'aggressione nei suoi confronti si è fatto rompere il bastone da passeggio del professore sulla nuca dalla cameriera che poi ne ha gettato i resti spezzati nel fuoco pensando di sbarazzarsene allora Van Pisturs ha rinchiuso la signorina a comp nello sgabuzzino e poi è tornato nel salotto probabilmente avrebbe dovuto attendere per alcuni minuti prima di andare a cercare aiuto o almeno questo era ciò che pensava lui il veleno a quel punto era ormai entrato in circolo ed è allora che egli deve aver ceduto stramazzando lì dove si trovava ed ecco anche la seconda vittima tuttavia signor Moy c'è stato un imprevisto la cameriera come deve aver sgradevolmente constatato al suo arrivo era ancora viva questo perché ella ha malapena toccato il pesce avvelenato doveva essere incapace di mangiare essendo a conoscenza della terribile macchinazione a cui si stava prestando lei ha sottovalutato la sensibilità delle donne signore sì ella è spregevole quanto lei e Van Pisturs eppure doveva esserci del rimorso in lei rimorso che le ha impedito di mandar giù anche un solo boccone e che di conseguenza senza che se lo immaginasse le ha salvato la vita c'è da vedere per quanto signor Holmes fece Sam Dubs se le verrà riconosciuta la complicità in questo delitto la forca attenderà anche lei non ne dubito replicò Holmes composto insomma se il signor Og fosse stato arrestato come colpevole dell'omicidio di suo zio e della servitù allora molto probabilmente sarebbe stata stabilita anche la complicità della sorella di conseguenza tolti di mezzo gli altri beneficiari lei signor Og De Moy sarebbe rimasto l'unico erede della piccola fortuna del professore molto conveniente come circostanza non le pare? non sono i soldi a interessarmi rispose egli secco mi hanno sempre disgustato fin dal giorno in cui Ezra Brai guadagnò il suo primo scellino sfruttando il mio lavoro e allora cos'è che l'ha spinta su questa oscura strada insiste lui si vede che lei non è mai stato tradito qualsiasi sgarbo o ingiuria è nulla in confronto al male commesso contro di sé da un amico soprattutto se era creduto il migliore amico esso apre una ferita da cui non sgorga sangue signore una ferita nell'anima e mi creda se le dico che nulla è in grado di farla guarire no nulla proprio nulla se non la vendetta portatelo via sbraitò Sam Dubs stanco di tutto quel parlare Ogden Moi venne caricato sulla diligenza della polizia assieme ai corpi di coloro i quali aveva ucciso e l'ispettore senza nemmeno salutare dopo aver fatto prelevare anche Elis Comp trascinata semisvenuta montò anche egli in carrozza assieme ai suoi agenti e ci piantò lì senza nemmeno aver provveduto a recuperare gli oggetti rubati dal salotto di Bray Manor ma quelle cose erano l'ultimo dei pensieri dei nuovi proprietari della villa Dai Dog al settimo cielo per la quantunque sconvolgente ma felice conclusione del caso si fece incontro ad Olms e non la finiva più di ricoprirlo di elogi e di ringraziamenti suo fratello Aldo ora più composto si limitò a stringere la mano a me e al mio amico e a mormorare un grazie appena accennato Lei è un angelo signore esclamò la ragazza Non esageri si smarcò lui Ho solo trovato che questa faccenda presentasse alcuni spunti interessanti ed è oramai noto che sono proprio quelli ad attirarmi Dicemmo loro dove poter trovare i suppelletti di traslati nella buca sul crinale dell'hammerlow poi in capo a un'ora stavamo viaggiando sul treno che si sperava entro quella stessa giornata ci avrebbe riportati a Londra Nonostante fossi già spossato a tragitto appena cominciato mi rodeva il fatto di non avere ancora del tutto compreso come avesse fatto Holmes a risalire al vero colpevole Complimenti amico mio è stato fenomenale gli dissi Come sempre dottore mi rispose Tuttavia continuai ancora non capisco che cosa l'ha condotta a sospettare del notaio Me l'aspettavo Watson fece lui mi sentì un po' offeso Oh non si preoccupi tentò di consolarmi a sua discolpa dirò che il caso non era di così facile soluzione Ogden Moy aveva coperto bene le sue tracce anche se non bene quanto si aspettava Mi spieghi allora insistetti La prima cosa che ha tirato la mia attenzione spiegò Sherlock Holmes è stata la freddezza con cui Moy si riferiva a quello che avrebbe dovuto essere un suo buon amico Non si trattava di semplice contegno dettato dalle circostanze ma di vera e propria ostilità anche se ben celata Diciamo che anche se non una prova questo è stato il primo campanello d'allarme Quando poi siamo entrati in casa la scena del crimine mi è subito parza a peculiare mi riferisco al salotto Come ha giustamente constatato l'ispettore gli oggetti rubati erano troppo eterogenei e il resto della casa troppo integro per costituire davvero un bottino credibile e tuttavia non è stato questo a parermi strano Come Watson non c'era arrivato? A me è parso abbastanza elementare Il portabastoni vuoto amico mio Quando mai si è visto un portabastoni vuoto in una casa signorile come Brigh Manor? Sì era vuoto perché il bastone era stato usato come arma del delitto ma si chieda questo Un assassino esterno avrebbe forse corso il rischio di rompere in casa con la speranza di trovarli dentro la sua arma già bella e pronta? E inoltre se ben ricorda ne abbiamo ritrovato i resti nel camino ad un assassino ad un assassino esterno sarebbe forse importato di distruggere subito l'arma del delitto peraltro un oggetto non di sua proprietà e quindi assolutamente non a lui riconducibile? No dottore la risposta doveva essere per forza un'altra il bastone era stato impugnato da qualcuno di interno a Brigh Manor Bene ma questo non spiega cominciai a dire Mi lasci finire mi interruppe egli Appurato che l'assassino era qualcuno della cerchia familiare e non mi riferisco strettamente ai parenti di sangue non restava a che capire di chi si trattasse Come mi aveva fatto notare giustamente lei la ferita sul capo di Ted Van Pisturz era troppo circoscritta per essere mortale soprattutto se è recata solo con un bastone da passeggio Quel colpo avrebbe potuto al massimo stordirlo non certo ucciderlo quindi la causa della morte doveva essere per forza un'altra I miei sospetti hanno avuto conferma osservando il corpo del professor Bray Sì la sua ferita era senza dubbio tremenda e sono certo che gli sarebbe stata anche fatale se fosse stato ancora in vita al momento in cui gli veniva inferta ma come ho già detto prima il professore era stato il primo a cader vittima del veleno e sa da cosa l'ho capito elementare mio caro Watson da tre semplici fattori Primo se ci ha fatto caso sia il corpo che il letto della buonanima nonostante l'orrendo squarcio sul petto erano a malapena macchiati di sangue ciò che ne implica una perdita insolitamente minima per un danno del genere e da ciò deriva che o era stato contaminato da qualche agente addensante oppure oppure era il sangue di un morto non ancora del tutto induritosi nelle vene e per questo molto lento a scorrere completà il suo ragionamento eccellente conclusione dottore secondo una circostanza che può essere parsa insignificante a molti e infatti ritengo di essere stato l'unico a notarla per essere la scena del crimine di un brutale assassino all'arma bianca non le è parso che la camera del professore soprattutto il letto fosse un po' troppo in ordine? Egli avrebbe potuto e dovuto porre un minimo di resistenza al suo aggressore anche se sorpreso in piena notte questo ovviamente senza considerare l'azione del falso sonnifero ovvero veleno che fosse ma in tal caso sarebbe stato palese che era tutta una messa in scena non le pare? Terzo il suo volto non presentava il minimo turbamento cosa impossibile per un uomo sorpreso nel sonno da un assassino pure se ucciso seduta stante mi creda un volto contratto dall'orrore della morte non riesce mai a rilassarsi anche dopo anni dal decesso del proprietario e di permanenza nella dimensione oltraterrena borbottai qualcosa di rimando ma non ero certo in grado di seguire agevolmente l'intricato filologico dei suoi pensieri e quindi cosa le ha fatto sospettare tra tutti proprio del notaio? gli chiesi rendendomi conto che ancora non mi aveva risposto se ero sincero con lei fece Holmes nonostante la poco gradevole prima impressione che mi ha fatto non è stato lui il mio primo indiziato ovviamente ho subito scartato l'ipotesi che fosse effettivamente stato il signor Ogg con la complicità di sua sorella anche escludendo la disonestà del loro pensionante converrà con me che le circostanze che l'incolpavano erano un po' troppo convenienti alla risoluzione del caso che mi ha subito dato l'impressione di essere meno ovvio di quel che sembrava tant'è vero che persino l'ispettore Dubs ha subito escluso l'ipotesi della rapina finita male convergendo sull'omicidio premeditato ciò quindi lasciava come possibili assassini solo i servi ovvero il malese e la cameriera dopo il nostro colloquio con quest'ultima l'ho subito esclusa da una parte attiva un'isterica del genere difficilmente avrebbe potuto essere l'esecutrice materiale di un atto così efferato e quindi feci rimaneva solo il maggiordomo malese esattamente ma sa ero già arrivato a questa conclusione anche prima di assistere al suo colloquio con la signorina comp ah sì e perché di grazia ma il coltello Watson esclamò Holmes sorridendo come se stesse rimarcando un'obvietà il maggiordomo è un malese e guarda caso l'arma del supposto delitto è un Chris malese molto improbabile come coincidenza ne converrà con me vede per i malesi i Chris non sono semplici pugnali ma dei veri e propri esseri viventi a cui il fabbro che li forgia infonde addirittura un'anima i loro portatori ne provano un terrore quasi sacro e non li usano che in particolarissime occasioni di solito quando si trovano ad un bivio decisivo o ad un punto di svolta nella propria esistenza e come ci ha gentilmente spiegato il signor Moy Van Pisturs credeva di essere sul punto di ereditare una grossa fortuna quale migliore occasione quindi di placare la sete di sangue del Chris che il fu professore non considerava altro che un ricordino di un viaggio esotico passato com'è che sa tutte queste cose sull'estremo oriente gli domandai ha forse viaggiato molto amico mio se sì non me l'ha mai detto c'è un tempo per ogni storia dottore e per quelle della mia giovinezza non è ancora venuto il momento adatto fui un po' deluso da quella risposta evasiva perché non era né un assenso né una negazione alla mia domanda insomma ripresi mi ha spiegato di come ha sospettato del servitore ma il notaio però è proprio impaziente oggi mio caro Watson esclamò Holmes visto che è così affamato di conoscenza la contenterò vede c'era qualcosa che non quadrava nella semplice soluzione che avevo trovato va bene era stato il servitore ad uccidere il professore ad incastrare il signor Og ma per quale motivo dopo tanti anni di onorato servizio avrebbe dovuto commettere un atto tanto estremo e poi come si spiegava la sua ulteriore morte per i motivi che le ho detto prima la cameriera di certo non poteva essere stata almeno non con mezzi violenti ed ecco appurata la vera arma del delitto il veleno ma di nuovo perché la cameriera dopo tutto quel tempo di onorato servizio presso il rispettabilissimo professore avrebbe concertato col maggiordomo l'assassinio del suo padrone e poi in ultima battuta avrebbe tradito pure lui ovviamente le ipotesi possibili erano due o si trattava di una mente criminale sopraffina di come ne nascono raramente a questo mondo oppure era stata spinta da una forza esterna e con lei il malese e questa forza esterna avrebbe potuto essere solamente l'eredità del professore ma la parte che loro toccava in caso di esclusione dei principali eredi sarebbe stata irrisoria poiché il vero beneficiario ne sarebbe stato guarda caso il notaio Ogden Moy ma non è stato tanto il denaro a farmi puntare il dito contro di lui quanto l'idea del denaro sarebbe comunque stata del signor Moy l'ultima parola sulla ripartizione dell'eredità in caso di morte del professore poiché solo lui ne era l'esecutore testamentario ed è inutile che le ricordi delle onnipotenti facoltà di questi strambi soggetti che agiscono per conto di coloro che non sono più il fatto che fosse un botanico lo rendeva ancora più sospetto inoltre è una vera fortuna che nessuno abbia pensato a buttare via il pasto avanzato da quella fatidica sera sì Watson quel pesce nauseabondo sul quale ancora permeava il leggero aroma pungente delle foglioline di cicuta mascherato a malapena dal succo di limone che c'era stato spremuto sopra proprio quello pensi che ne bastano solo sei o sette per uccidere un uomo adulto e quel piatto ne era letteralmente pieno da giovane mi ritenevo un seguace delle dottrine del vecchio Socrate e in parte lo sono ancora adesso non cesso mai di farmi domande perciò allora mi sono chiesto chi meglio di un botanico avrebbe potuto procurarsi e saper ben utilizzare un veleno soprattutto uno che come riportava nel suo libricino alberi arbusti e piante non comuni dell'Othian orientale era a conoscenza del fatto che esso cresceva spontaneo proprio in queste zone avevo scoperto se non l'esecutore il mandante le sue motivazioni mi erano ancora oscure ma il signor Moy è stato così gentile da chiarirmele egli stesso una volta catturato è tutto qui concluse Holmes tutto qui sbottai incredulo e le pare forse poco a lei di certo parrà tanto amico mio mi rispose egli ma le garantisco anche le trame più complicate che una mente umana può escogitare non rimangono che infimi giochi da bambini nell'infinita tessitura del creato tutto sta nel farsi largo tra le maglie di questa tessitura come sempre lei è acutissimo Holmes non potei fare a meno di dire oh non esageri sorrisei sono solo uno che si sbraccia tanto fine audiolibro scritto e portato da Stazione Verne Audiolibri lettura di Simone Casi un ringraziamento speciale a Stefano Ragni del canale A Nessuno Interessa la Poesia che ha interpretato il notaio Ogden Moy grazie mille per aver ascoltato e a presto grazie mille